Massimo, Vittorio e Arcangelo sembrano aver voltato pagina definitivamente ed essersi lasciati alle spalle le storie con Ilaria, Katia e Nunzia. Su Instagram appaiono insieme mentre ballano e si divertono in compagnia delle single conosciute nel villaggio delle tentazioni. Massimo addirittura si è tatuato le coordinate il nome del villaggio in cui è stato. Che i ragazzi si siano legati tra loro non è una novità. Sorprende però vederli in dolce compagnia. Nelle immagini pubblicate sui social si intravede l'abbraccio tra Vittorio e Vanessa. Il video fa definitivamente clorlare le speranze di chi desiderava una riconciliazione con Katia un mese dopo la separazione. Dopo il falo di confronti infatti Vittorio è corso tra le braccia della single frequentata durante il reality. Nelle stories di Massimo Colantoni c'è anche Elena la ragazza da cui era fortemente attratto. I due sono in buoni rapporti nonostante il ragazzo romano abbia interrotto la frequentazione al termine del weekend da soli e prima del chiarimento con la fidanzata Ilaria. Nel locale infine spunta anche Sonia la ragazza a cui Arcangelo ha strappato un bacio convinto di non essere ripreso dalle telecamere. I ragazzi si divertono e ballano con le singole che hanno condiviso con loro l'avventura televisiva e con altre ragazze conosciute al relay. Un amore quello di oggi che finisce così come inizia in un secondo. Grazie a tutti.